...quiz, che sarebbe un momento ludico e informativo in cui si usa CAUT, che è un app per il telefono, un po' come scombo il quiz oppure il... come si chiama? Dr. Why, se c'è mai giocato. E abbiamo riscontrato un sacco di partecipazione e voglia anche delle persone di, sì, giocare, ma poi sapere davvero cos'è che c'è dietro le domande che facciamo. Quindi, una delle iniziative che proporremo per Stavolta Vuoto sono una serie di sketch semidivertenti da rilanciare poi con la piattaforma. Ci stiamo lavorando e diciamo che siamo qui anche per farvi un invito, per chiedervi se volete di partecipare a UE, di aiutarci e di farci arrivare le vostre idee per crescere insieme. Come vi trovano? Sulla pagina Facebook, cercate UE, la voce dell'Europa. Abbiamo anche il sito internet che è www.giornaleue.com. Iscriveteci, siamo aperti a tutto e se siamo qui abbiamo lo stesso obiettivo, cioè quello di fare la ponte tra ragazzi e un'Unione Europea. Grazie. Grazie. Grazie.